ciao a tutti e bentornati sul canale di alzere già live dell'essere oggi dopo le vacanze ritorno con questo nuovo video di cui vi avevo già parlato un po di tempo fa e mi è venuto in mente di farlo proprio perché io come penso tanti di voi sanno faccio la maestra di danza e mi piace anche tanto cantare, ballare, suonare e ascoltare tanta musica e quindi ho pensato di farvi capire, di mettervi al corrente di come la penso io sulla musica però vista come sempre la musica in ambito magico ovviamente perché questo è un canale che si occupa di magia io mi occupo di magia, di esoterismo e non potevo non fare questo collegamento ovviamente che è importante perché come tutti i nostri strumenti, le nostre passioni, le nostre azioni quotidiane possono queste essere viste in più sfaccettature e secondo me, o almeno io vivo secondo la sfaccettatura magica quindi nel senso ogni cosa che faccio io la ricollego a quella la faccio per un motivo, la faccio in un certo modo che rispecchia appunto l'arte, la vibrazione della magia, della stregoneria e dell'esoterismo quindi iniziamo subito a parlare della musica allora, la musica principalmente è un'arte come lo è la magia come lo è la danza come lo può esserlo la cucina e tantissime altre cose io ho sempre detto, chi mi segue lo sa sicuramente ho sempre detto che quando un artista fa dell'arte quindi quando qualcuno si esprime attraverso l'arte sta facendo un lavoro magico perché in quel momento sta ascoltando qualcosa che ha dentro quindi sta osservandosi sta ponendo l'attenzione al suo interno è centrato, è in presenza, è in ascolto e da lì, grazie a questo ascolto grazie a questa attenzione tira fuori un qualcosa che viene fuori appunto sotto forma di arte sotto forma di canzone di coreografia, di danza di piatto di cucina di quadro dipinto quindi ogni artista ha secondo me ha imparato almeno ad avere un importante, un grande contatto con se stesso altrimenti non potrebbe tirare fuori niente la prima prerogativa che deve avere un artista che sia di musica o meno deve essere proprio quella di cercare almeno di entrare in contatto con la propria anima almeno quando comunque si deve deve fare arte deve fare la cosa di cui si occupa quindi non esisterà mai un musicista un ballerino che prima di creare una coreografia prima di creare una canzone prima di cantare una canzone o di ballarla non è in contatto un minimo con se stesso con il suo interno non è in presenza altrimenti non uscirebbero delle cose così profonde così belle e qui arriviamo alla critica diciamo io osservo tanto anche ovviamente la società moderna perché ci vivo nonostante io sia molto legata alle tradizioni passate e alle cose che avvenivano in passato piuttosto che a quelle che che avvengono adesso o comunque ai modi in cui queste cose avvengono adesso comunque ovviamente mi tengo informata su tutto vivo in questa società e ne parlo la musica purtroppo come abbiamo detto è un grande strumento magico che non solo è appunto un'arte che fa entrare in contatto con la propria anima anche per un momento ma è uno strumento magico perché comunque può essere utilizzata in magia proprio nei rituali nelle pratiche può essere utilizzata per aiutarci a capire determinate vibrazioni a sentirle a immedesimarci in qualcosa se ci serve non so fare un rituale per acquisire determinate virtù determinate emozioni determinate insomma qualità possiamo benissimo anzi è molto utile io lo faccio moltissimo mettere qualche canzone in sottofondo che ci ricorda quella vibrazione che ci trasmette quella virtù che ci trasmette quelle emozioni eccetera e questo avviene solo ovviamente se la canzone in questo caso è di un certo tipo ovvero se l'autore il cantante il musicista è stato in grado di essere in contatto con se stesso di essere in contatto con l'anima e tutto ciò che ho detto prima lui carica la propria canzone con la sua vibrazione con la vibrazione che lui vuole trasmettere in quel momento il cantante come tutti gli altri artisti vogliono trasmettere qualcosa al pubblico o comunque a chi guarda a chi riceve l'opera che lui sta facendo lui sta dando insomma l'arte che sta mostrando quindi in quel momento quando qualcuno che ne so magari scrive una canzone o canta una canzone eccetera ha in mente di trasmettere qualcosa la sua intenzione il suo intento anche a livello ovviamente parliamo a livello magico magari tanti lo fanno a livello inconsapevole ma l'intento di quella persona dell'artista è di trasmettere qualcosa che in primis prova lui lui prova qualcosa qualche emozione superiore stando in contatto con la sua anima e cerca di trasmetterla a noi che guardiamo a noi che ascoltiamo eccetera quindi questo può essere molto utile nei lavori magici per appunto aiutarci per aiutarci ad entrare sempre più in contatto sempre più nel mood diciamo nella modalità di quella vibrazione che dobbiamo lavorare della virtù che vogliamo acquisire eccetera eccetera anche con le festività si può fare questo ci sono tantissime canzoni diciamo pagane magari anche in base alle tradizioni che seguite musiche celtiche musiche nonrene musiche africane ce ne sono veramente tantissimi ce ne sono anche delle musiche pagane per esempio sui sabba o comunque sulla filosofia della wicca della stregoneria ce ne sono veramente tantissime quindi andate a sentire tutte le canzoni che vi trasmettono qualcosa sono utilissime per il lavoro quello che stavo dicendo prima riguardo la società è che purtroppo per trasmetterci qualcosa le canzoni le musiche eccetera devono essere caricate in un certo modo cioè l'autore il cantante l'artista della canzone deve essere in grado di trasmettere e prima che trasmettere deve essere in grado di provare quello che vuole trasmettere se io scrivo una canzone d'amore e voglio cantare una canzone d'amore io devo essere in grado di provare quell'amore di cui parlo di cui canto o di cui ballo se sono un ballerino che vuole fare una coreografia e una volta che lo riesco a provare posso amplificarlo così tanto nel momento in cui io lo esprimo attraverso la canzone attraverso il ballo eccetera che questo amore che provo io arriva anche al pubblico che mi guarda al pubblico che mi ascolta purtroppo al giorno d'oggi questa cosa viene molto molto sottovalutata molto lasciata lì le canzoni le musiche che vanno al giorno d'oggi almeno in Italia parlo ovviamente sono alquanto deprimenti nel senso dal punto di vista artistico e dal punto di vista di vibrazione che ti che ti tramanda io non faccio nomi perché non voglio essere troppo critica però questo è il mio libero pensiero e è il mio pensiero riguardo a un lavoro magico se uno vuole fare un lavoro magico canzoni che parlano di droga di quanto è bello farsi le canne di quanto è bello che ne so fare il delinquente con la pistola nella tasca cioè sono cose che non appartengono al mio mondo e non mi trasmettono niente e purtroppo anzi non è che non trasmettono niente trasmettono delle cose ben precise che però non sono per niente utili nel lavoro magico perché non trasmettono emozioni superiori trasmettono emozioni inferiori emozioni bassissime pesanti crude e che servono a mio parere soltanto per far passatemi il termine rincoglionire un po' le persone servono se voi sentite una di queste canzoni penso che avete più o meno capito il genere io non farò nomi però una di queste canzoni nuove di questi ragazzi che cantano sul trap trap non so neanche come si chiama comunque di questi generi qua ultimi che sono usciti che cosa vi vi trasmette questa quelle canzoni quelle parole che dicono a me non di certo emozioni superiori e di conseguenza quindi oltre ai miei gusti che qui non ci interessa niente dei miei gusti io sto parlando del lavoro magico di conseguenza non possono essere utili per un lavoro magico ma sono utili soltanto per sentire determinate emozioni di basso livello molto inferiori che servono a far stare la gente come stanno quelli che cantano queste cose quindi il consiglio che do e è la cosa che ovviamente seguo anch'io è che se usate le canzoni le musiche comunque la musica in generale durante i lavori magici che siano delle canzoni con un senso che siano delle canzoni con una determinata vibrazione forte perché la musica può essere uno strumento molto molto importante molto efficiente e molto utile molto d'aiuto per per il rituale perché già voi quando state con le cuffiette e sentite una canzone che vi piace tanto che magari parla non so d'amore o di qualsiasi altra cosa sentite qualcosa dentro di voi voi provate quelle emozioni superiori per un momento siete in contatto con qualcosa di molto bello di elevato di molto profondo anche quindi quella sensazione che voi provate vi è utile riprodurla nel rituale nella pratica nella celebrazione che dovete fare perciò sentite canzoni o anche ballate canzoni se siete ballerini o suonate canzoni se siete musicisti che vi trasmettono quelle emozioni superiori che sentite quando parte tipo la vostra canzone preferita voi entrate in un secondo in contatto con qualcosa succede una scintilla dentro di voi che vi fa dire mamma mia questa canzone mi fa venire la pelle d'oca no? quella sensazione usatela e mettetela nei vostri rituali e mettetela nelle vostre pratiche io per esempio amo 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 Michael Jackson è stato una grande guida per me anche quando ero molto molto più piccola lo seguo ormai non lo so da quando stavo all'elementari penso quindi è stato veramente importante per me e la sua musica è qualcosa di spettacolare cioè lui adesso c'è anche chi non può piacere ovviamente Michael Jackson in sé ma persone come lui persone come Freddie Mercury che ovviamente anche lui amo dalla follia persone che hanno fatto così la storia della musica non sono neanche paragonabili a quei quattro ragazzetti che ci sono adesso senza niente togliere a loro non può essere la stessa cosa canzoni come le canzoni di Michael Jackson dei Queen eccetera di tutti questi grandi della musica hanno impresse delle vibrazioni molto particolari che anche soltanto con la voce quella persona riusciva a trasmettere quindi se voi sentite una canzone ecco io vi dico di Michael Jackson perché lo conosco molto bene però anche a chi non piace Michael Jackson per esempio se voi provate a sentire un pezzetto di qualche canzone sentite che comunque nella sua voce c'è qualcosa c'è un una grande capacità di entrare in contatto con l'anima e di trasmettere quello che lui aveva dentro come tantissimi altri della musica anche italiana per carità c'è anche se parliamo di De André per esempio c'è un motivo per cui alcuni sono diventati grandi che sono famosi in tutto il mondo anche dopo la loro morte anche dopo tantissimi anni resteranno nei secoli dei secoli e c'è un motivo infatti se loro sono così e se altri non sono così perché semplicemente la loro capacità di incanalare la vibrazione che vogliono trasmettere e poi far provare quella vibrazione al pubblico non è hanno delle capacità molto diverse appunto quindi evidentemente questi grandi della musica sono le persone che hanno fatto anche inconsapevolmente un lavoro magico con la loro musica e ce l'hanno trasmesso quindi come ultimo consiglio oltre appunto a questo che vi consiglio di sentirvi canzoni che vi fanno entrare in un determinato stato vibratorio altri consigli più pratici sono sentitevi canzoni diciamo che vi fanno rispecchiare la vibrazione che dovete andare a lavorare quindi devo fare un rituale di amore d'amore vado a sentirmi una canzone che è piena di quella vibrazione d'amore devo fare un rituale di guarigione vado a sentirmi una canzone che è piena di quella vibrazione di guarigione di energia di guarigione ci sono canzoni sia cantate parlate con la voce e anche canzoni soltanto melodiche quindi anche solo a un livello musicale di note di suoni ci sono dei musicisti che mettevano insieme delle note ma soltanto il come le mettevano insieme facevano uscire fuori delle cose delle musiche che solo sentendole ti fanno stare in presenza ti fanno stare in contatto con la tua anima solo sentendole quindi utilizzate tantissimo questi strumenti qui ecco che vi vi consiglio tanto anche se siete capaci suonate voi qualcosa specialmente nei rituali celebrativi potete benissimo suonare voi delle note degli strumenti insomma che vi aiutano a praticare il rituale e come musiche canzoni diciamo pagane per magari rituali di sabba o comunque rituali di stregoneria insomma cose così vi consiglio di sentire Lorina McKennett che è una delle più grandi e famose cantanti di questo genere di canzoni che tra l'altro ha fatto anche non so se conoscete il film Le nebbie di Avalon ha fatto la colonna sonora di quel film con Mystic Dreams quindi penso che è abbastanza conosciuta oppure Lisa Thiel è scritto TH quindi non non so bene come si pronuncia comunque magari ve le scrivo qui sotto e vi andate a sentire le loro canzoni perché fanno anche delle canzoni sui sabba e sui vari periodi o comunque varie festività della wicca della stregoneria insomma di queste tradizioni quindi detto questo ascoltate la musica sentite la musica entrate in contatto con la musica perché può essere un grande strumento magico non solo sentirla quindi per aiutarvi ad entrare in una determinata vibrazione ma anche produrla produrre della musica quindi suonare cantare ballare su una musica improvvisate anche io insegno danza faccio fare parecchie improvvisazioni nelle mie lezioni perché l'improvvisazione è qualcosa che ti mette in contatto sempre con la tua anima tu ti ascolti senti che cosa vuoi esprimere senti la musica che cosa mi fa venire in mente questa musica e lo riproduco ok quindi siate musicisti e sentite la musica producete la musica ballate cantate che veramente può aiutarvi nel lavoro magico quindi detto questo io vi saluto vi do come sempre appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona pratica grazie a tutti